Ciao a tutti ragazzi, sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo rimandare la data di domani di Torre del Lago al 7 agosto perché dalle ultime settimane che sto cercando di guerrire da un'infiammazione alle corde vocali e che è venuto appunto nelle mie ultime date, questo già lo sa, e mi hanno detto che devo stare a riposo fino al 2 agosto, quindi spero che anche le date di Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Sono super triste e spero quindi di rivedervi il più presto possibile. Un bacione. Grazie.